Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times, buonasera Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera, buonasera Luca Telese, giornalista e buonasera Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano, allora le regioni chiedono ormai tutte di anticipare le aperture già a lunedì prossimo ma il governo frena, intanto però secondo il professor Clementi il coronavirus sta diventando più buono, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Professor Clementi, lei ha detto che l'epidemia si sta svuotando e che il coronavirus potrebbe diventare innocuo come un raffreddore, ora se così fosse sarebbe una notizia bomba, è proprio sicuro? Pensi che temevo di fare un'osservazione fin troppo ovvia prima di farlo, quindi ero proprio lontanissimo dall'idea di buttare una bomba, non solo sono sicuro ma vi spiego brevissimamente da che cosa deriva questa osservazione. In primo luogo dall'analisi del profilo clinico della malattia, confrontandomi come faccio quotidianamente da tre mesi, perché stiamo vivendo in trincea da tre mesi, io in laboratorio ma i miei colleghi realmente in trincea, abbiamo fatto la considerazione che il profilo clinico di questa malattia è mutato, è mutato perché all'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone al pronto soccorso del San Raffaele, la gran parte delle quali, la grande maggioranza delle quali avevano necessità della terapia intensiva e di un'assistenza ventilatoria, adesso non arrivano più, da due settimane non arrivano più. Sono diminuiti le persone che hanno necessità di ricovero, si è modificata la malattia o si sta modificando. Quali sono i fattori? Perché poi ovviamente questa è la prima considerazione che abbiamo fatto, ma abbiamo fatto subito una valutazione di che cosa poteva aver portato a questo. Noi al San Raffaele abbiamo ricoverato oltre mille persone, è stata fatta un'identificazione molto attenta dei fattori di rischio che portano da un'infezione, chiamiamola lieve, a un'infezione grave e li abbiamo identificati, è stato fatto un lavoro scientifico su questo che è stato sottomesso per la pubblicazione. I fattori di rischio ovviamente vanno tenuti a bada, perché se non si tengono a bada i fattori di rischio poi si rischia di vedere che le persone che hanno una maggiore opportunità di un'evoluzione negativa si ammalano. Sono state introdotte delle terapie efficaci e questa può essere un altro fattore che ha modificato certamente il profilo di rischio. Questo attiene al lavoro di prevenzione, chiamiamolo così, e poi di cura, ma lei ci sta dicendo che il virus si sta depotenziando, no? Il virus, quanto di questo cambiamento dipende dal virus? È noto che i virus sono molto più cattivi quando arrivano per la prima volta all'uomo. È successo quando gli spagnoli sono arrivati nel centro America e hanno portato delle infezioni a delle popolazioni native che non avevano mai visto quegli agenti infettanti. È successo più tardi, nel 1600, nelle isole del Pacifico. Ecco, quindi aspetta, senza che facciamo la storia di tutte le epidemie perché sennò non abbiamo il tempo necessario. Però la storia ci insegna, la storia ci insegna molto. Comunque, al di là di questo, guardiamo i coronavirus. Ecco, però io, mi scusi, le devo chiedere perché siccome un po' ci dobbiamo attenere ai numeri, i numeri di ieri, oggi, insomma, ci parlano di ieri più di 300 morti, oggi 260. Perché così tanti morti ancora? Sì, ma un conto è il dato sulla mortalità, un conto è il dato sulla decrescente presenza di pazienti nelle terapie intensive. Quello è il dato da monitorare, tant'è che è uno degli indicatori che lo stesso Ministero della Salute ha inserito tra le valutazioni che vengono fatte nel corso della terapia, oltre al numero dei nuovi contagi, eccetera. Va bene. Ma io volevo arrivare al virus, il virus è un coronavirus. Noi conosciamo altri sei coronavirus umani, dei quali quattro ci infettano da sempre. Va bene. E quindi, no, lei deve però essere un po' più rapido, professore, mi scusi, so che lei fa il professore. Quindi tutto questo per dire... Tutto questo per dire che questo coronavirus potrebbe nel tempo, se continua così, modificare sia il suo profilo clinico di rischio, sia, siccome cambia geneticamente, anche adattarsi all'ospite. Come stiamo studiando in questo momento? È chiaro che dobbiamo oggettivare quello che diciamo. Certo, certo. E bisogna fare ancora un tempo di osservazione ancora un po' più lungo, ovviamente. Beppe Severnini, oggi tutte le regioni hanno chiesto di anticipare molte aperture già a lunedì prossimo. Il governo però frena, anche perché forse non è proprio così una buona idea, visto che non abbiamo ad oggi nessun dato su come è andata, diciamo, la prima fase della fase 2, no? È così. Innanzitutto voglio ringraziare il professore che ci ha dato una buona notizia, scusa Lili, e mi ha fatto, insomma, ne abbiamo tutti bisogno. Stia attento, dino che se la chiamano dalla Casa Bianca e Trump si impossessa di questa cosa, io so che non ne farà un buon uso, però ho capito che lei invece è stato preciso e ci ha voluto incoraggiare. Adesso ti rispondo, Lili, io credo che la prudenza, la prudenza del governo verrà capita se verrà accompagnata da attenzione, precisione e lealtà. Io ho scritto e ripeto che negli ultimi mesi, due mesi e mezzo, i governanti devono ringraziare i governati che siamo noi. Non è che succede sempre. Sono convintissimo che gli italiani abbiano dato una prova che non hanno dato i francesi, gli inglesi, gli americani. Niente proteste abbiamo seguito. C'è un modo, se i governanti vogliono ringraziarci Lili, c'è un modo semplicissimo. Siano precisi e la cassa integrazione promessa arrivi. Quando i poveri ristoratori di Milano, tutta Italia, i ristoratori e i baristi, di fronte allo tsunami, sono andati all'arco della pace a Milano e sono stati multati. Ma allora, questo non è un segno di grande sensibilità. I protocolli per aprire i negozi. Dite chiaramente cosa bisogna fare in un negozio, in un bar, in un ristorante per poter aprire. E chi paga queste novità? Cioè, lo Stato, perché non dice? Pago io, non preoccupatevi. Occorre lo schermo di Plexiglas, occorre questo, occorre... No, non sono cose complicatissime. Paghiamo noi. È la confusione, è la somma degli annunci che ci sta veramente stancando. Conte, secondo me, finisco, è una brava... sei dimostrato una brava persona. Adesso però deve dimostrarsi una persona brava, che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa. Luca Telese, perché poi noi naturalmente osserviamo con attenzione quello che fanno altri paesi, soprattutto altri paesi europei. In Francia hanno deciso di aprire le scuole già lunedì prossimo. La Germania ha deciso di riprendere la Bundesliga, il campionato di calcio, il 16 maggio già. E lì, diciamo, i messaggi sono stati tutti molto semplici, molto chiari, molto precisi. In Italia siamo molto troppo avveduti o troppo poco temerari. Lilli, concedimi di essere meno sobrio di Severnini. Io stasera vorrei dare un bacio in bocca. Per fortuna siamo distanti al professor Clementi, perché ci ha dato una notizia più bella e più importante. Servono le date certe e soprattutto bisogna finire con questo tono di per grazia ricevuta. Guardate che è arrivata sui voi la punizione per i vostri peccati e quindi non la scampate facilmente. No, la sobria lezione meticolosa pignola del professore ci dice che in realtà non abbiamo commesso nessuna colpa e come ci sono le date negli altri paesi. I 49 hanno riaperto le scuole con una data certa, 22 le hanno già riaperte da tempo nel resto d'Europa e del mondo, anche noi dobbiamo fare. Soprattutto perché, secondo me, c'è un punto importante. Ho fatto una lunga intervista al professor Vespignani, che come è noto viene considerato uno degli epidemiologi più esperti in questa crisi e lui dice che bisogna riaprire con le condizioni. Quindi se c'è il plexigas si può riaprire. Se ci sono le 3T, se c'è il trattamento, se c'è il tracciamento e se c'è la cura, si può riaprire. Quindi il problema è che adesso servono le date. Siamo stati bravi nella fase 1, bisogna essere altrettanto bravi e sfavillanti nella fase 2. Silvia Borrelli, tu sei d'accordo con Beppe Severnini perché sul Financial Times ha scritto che ti sembrano molto le linee del governo per questa fase 2, sembrano molto confuse. Però, ancora una volta, guardiamo ad altri paesi. Hanno fatto poi tanto meglio dell'Italia perché se osserviamo quello che è successo in Gran Bretagna con Boris Johnson o negli Stati Uniti con Trump. Insomma, preferisco essere in Italia. Sì, allora sicuramente per quanto riguarda gli altri paesi direi che Gran Bretagna e Stati Uniti in questa pandemia non sono assolutamente da prendere d'esempio. Poi diciamo sono ancora in piena fase 1. Quello che faranno per la fase 2 è ancora tutto da vedere. Sicuramente Francia e Spagna e la Germania anche che stanno iniziando ad uscire lo stanno facendo ma anche lì con diverse difficoltà. Magari la Germania lo sta facendo in modo ordinato, però abbiamo visto che gli Stati federali si stanno ribellando, vogliono regole diverse in base ai livelli di contagio. In Francia ci sono polemiche sulla riapertura delle scuole. Prima si è detta una cosa, poi si è detta che era volontaria. In molte zone non riapriranno perché non hanno la possibilità di riaprire e non hanno gli strumenti. Addirittura adesso leggevo che per andare sui mezzi pubblici i lavoratori dovranno avere una dichiarazione del datore di lavoro che spiega perché si trovano sui mezzi pubblici e che non avevano mezzi alternativi. Però devo dire che quello che ho scritto sul Financial Times non è una mia opinione, purtroppo è quello che mi hanno raccontato gli imprenditori e non parlo delle grandi aziende perché lì sicuramente a livello di risorse e di organizzazione c'è una maggiore possibilità di far bene e di comportarsi secondo le regole. Però dai ristoratori di Milano di cui parlava Beppe Severnini, ad altri piccoli imprenditori ho intervistato per esempio dei proprietari di bed and breakfast degli affittacamere che per via del codice Ateco non rientrano nei sussidi messi a disposizione dal governo, sono chiusi da tre mesi e devono pagare le tasse a luglio. Quindi sicuramente il tentativo e soprattutto la gestione anche della prima fase emergenziale e per il lockdown noi siamo stati un esempio per gli altri paesi che sicuramente hanno seguito la strada dell'Italia. Rischiamo di non esserlo in questa fase 2 perché c'è troppa confusione, non ci sono linee chiare e purtroppo l'economia finirà in ginocchio. Questo sarà il grandissimo problema come vedremo tra poco anche col punto di Paolo Pagliaro. Severnini, di sicuro ti do subito la parola ma voglio solo passare a un'altra cosa con Severnini perché per la fase 2 fondamentali sarebbero i tracciamenti. Tutti concordano sul fatto che per una vera riapertura in sicurezza servirebbero test, test, test. Ora in Lombardia siete un po' più all'avanguardia che da altre parti in Italia? No, siamo nella retroguardia assoluta. Tu sai il sindaco Sala ha deciso di compiere uno studio insieme al professor Galli che ormai tutti conosciamo sui conducenti dell'ATM, quindi quelli che guidano i tram e gli autobus di Milano. Sai dove vengono analizzati questi test che vengono fatti a Milano sui guidatori degli autobus di Milano in Francia, a Grenoble? Sai perché li fanno in Francia? Perché in Lombardia non è ammesso, cioè in Lombardia decidono le aziende territoriali sanitarie, ATS, decidono loro a chi farlo, a quali categorie. Ma se un'azienda vuole scoprire attraverso il test se il personale ha passato il coronavirus, ha conosciuto il coronavirus, il test serve a quello, semplicemente non può farlo. Ma la Lombardia è talmente stata decisa in questa cosa che ha anche scoraggiato, devo dire, gli imprenditori e un comune come Milano a rivolgersi al Veneto, all'Emilia. Sono finiti in Francia, ce ne occupiamo domani sul Corriere, Simona Ravizza che si è molto occupata di sanità, andrà anche lei e se ne occupa anche lei. Allora tu capisci la situazione? Come fa il ristorante a aprire? Hai sei dipendenti, vuoi fare il test a tutti. Armani è andato in Francia a fare i test. Armani. Scusa Luca Telesi, tu volevi intervenire perché su questo voglio poi interpellare subito il professor Clementi. Sì, no, la cosa che volevo dire si collega a questa, si collega a questa ed è quasi una domanda del professor Clementi, nel senso che i tracciatori, anche fisicamente le persone che tracciano, ancora non sono stati reclutati. Allora, proprio per fare un esempio che fa Vespignani, in Congo, con molta più efficienza di noi, si sono messi a tracciare, andare nelle case, fare i tamponi a domicilio e ritornare. Quindi qui il governo e le regioni non possono scappare, si può e si deve fare perché se lo fa il Congo forse dovremmo riuscire a farlo anche noi. Ma qui non si fanno neanche i bandi, non si fa l'albo, non si sa chi sono fisicamente queste persone. Allora, professor Clementi, lei che idea si è fatto? Ha delle risposte da darci? Sui tempi delle riaperture, io faccio il virologo, ma sono anche una persona che vive nel mondo civile, mi rendo conto che aprire si debba. Però le riaperture vanno fatte con attenzione al mantenimento di quelle regole di protezione individuale che debbono essere prese. E qui si apre il problema, che ho sentito citare poc'anzi, del poter testare nel luogo di lavoro, perché questa è una richiesta che sta venendo da tutto il mondo industriale. Perché siamo così indietro? E perché la Lombardia manda i test a analizzare Grenoble? Non è la Lombardia, credo che siano tutte le regioni in questa condizione. Finora la diagnostica ha avuto una direzione a livello regionale e adesso è richiesto che si apra ai privati, sia la sierologia, sia probabilmente anche i test di biologia molecolare. Perché senza questo, mi scusi, ma come si fa a mandare avanti un'app se non si fanno i tamponi, i cosiddetti tamponi, che poi sono la ricerca del virus, a tutti, a tutti quelli a cui si possono fare. L'app funziona individuando il soggetto con l'infezione, se io non lo conosco. Ma quindi rispetto ad altri paesi l'Italia ha fatto peggio o meglio? L'Italia ha fatto come gli altri paesi sostanzialmente. C'è questa normativa di cui ormai si stenta a capire la validità, anche perché, ripeto, noi come Ospedale Serafele siamo richiesti da tante persone che hanno imprese, che hanno attività, di poter svolgere una valutazione a loro personale. Perché forse è richiesta anche dai sindacati questa cosa, negli accordi sindacali c'è la puntela del lavoratore. E quindi lei dice anche il coinvolgimento dei privati. Beppe Severnini, tu sei contento di questa risposta del nostro professore che ovviamente non abbiamo interpellato, perché lui è sicuramente un esperto in materia, ma ancora comunque non abbiamo capito o abbiamo capito troppo bene che in Italia non siamo in grado di fare tanti test, di fare tanti tamponi. Questo è il vero punto, no? Guarda Lilli, io credo che io, ci mancherebbe che mi metto a discutere di virologia, sarei ridicolo, io l'ho ascoltato con interesse e rispetto, ma i giornalisti possono imparare, studiare, informarsi. Oggi è da stamattina che ci lavoro su questa cosa, perché ero così sbalordito quando ho saputo questa notizia, cioè che il sindaco di Milano per fare uno studio sui guidatori degli autobus deve andare in Francia e pensavo che chi me l'avesse detto se l'era inventato. Ho trovato altre due conferme importanti, indipendenti, quindi sono certo di quello che dico. Professore, no, credo di, anzi sono certo, che in Veneto, quindi una regione governata dalla centrodestra e in Emilia Romagna una regione governata dal centrosinistra, è possibile per le aziende rivolgersi ai laboratori e effettuare i test. In Lombardia no, adesso apriranno. Ho sentito, e sarò brevissimo, il motivo per cui di questa resistenza una cosa che mi è stata detta è che in Lombardia tutti vorrebbero fare il test sierologico, quando il test è positivo a quel punto bisogna fare il tampone, la Lombardia non può fare i tamponi a tutti. Allora, se così fosse, peggio ancora. Oltretutto, non tutti lo vorranno fare, prima magari chi lavora, chi lavora in gruppo, poi si faranno i tamponi. Insomma, mi sembra come se questa è la spiegazione, mi sembra veramente strana. Luca Telese, intanto il governo è alle prese, non solo con il coronavirus, il nemico esterno, ma anche con degli avversari al proprio interno, all'interno della maggioranza, no? Perché i renziani sono su piedi di guerra, anche se adesso pare che abbiano trovato la quadra. Zingaretti oggi ha detto che se questo governo non ce la fa ci sono solo le elezioni. Quindi basteranno queste parole insieme alla arte di mediazione di Conte per neutralizzare tutte le manovre, per farlo fuori? Ma guarda, credo che hai colto il punto, cioè quella frase è un po' come il whatever it takes di Draghi tradotto in politica, cioè è la garanzia che il segretario del partito Cardine dà al governo, cioè dice fermi, non accetto nessun'altra soluzione, neanche un altro premier del PD, che è la chiave di Grimaldello più pericolosa che Conte si ritrova davanti, fra chi è interessato a smontare la sua maggioranza. Quindi questa presa di posizione Zingaretti mette un po' a tascere tutte le voci che dice ma un governo Franceschini, ma un governo Pinco Pallo, un governo con qualcun altro, purché non sia Conte. Ho solo una piccola domanda, se si può, proprio telegrafica per il professor Clementi, perché la risposta a quello che dicevamo è che in Veneto c'è un laboratorio ogni 500 mila abitanti, in Lombardia un milione di salute pubblica, quindi sicuramente ci sono meno risorse. Però la domanda che tutti si fanno, anche con i dati di oggi, è che come se tutta l'Italia stesse un po' aspettando la Lombardia. La Lombardia oggi ha i numeri peggiori, no? Drammaticamente, ci dispiace, però da sola Cuba, metà di tutti gli infetti nuovi di tutta Italia. Allora la domanda è, ma non si può pensare che quando ci si trova in una situazione così anche numericamente circoscritta non convenga avere un provvedimento differenziato fra la Lombardia e le altre regioni che hanno tassi molto più basso di contagio? Professor Clementi? Sì, io penso che in qualche modo modulato, un provvedimento modulato in vari aspetti, credo che si arriverà a una... non ha molto senso a livello nazionale considerare le stesse misure per regioni che hanno un tasso zero di infezione con regioni che hanno tassi... Quindi si arriverà e il governo stesso ha detto che a partire dal 18, in base sempre anche ai numeri e ai dati... Anche la Germania ha fatto questo. Certo, certo. Silvia Borrelli, domani l'Eurogruppo tenta di mettere a punto il famoso MES, il Fondo Salva Stati, e in serata il commissario italiano Gentiloni ha detto che c'è un accordo affinché non ci siano condizionalità né prima né durante né dopo. Questa è una cosa. L'altra è la telefonata del Premier Conte con Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, per il Recovery Fund, perché quello dovrebbe cominciare ad agire da giugno. Ma con un governo così pieno di tensioni, Conte, non va comunque molto indebolito a Bruxelles? Ma io credo che in Europa in questo momento, per fortuna direi anche, non ci stiano neanche facendo caso al caos interno alla maggioranza di governo in Italia. Certo è che il Ministro Gualtieri due giorni fa ha parlato di 100 miliardi di euro per l'Italia dal Recovery Fund, ce ne dovrebbero essere altri 37 dal MES e bisogna capire se prendiamo 137 miliardi, se li prendiamo in prestito e con quali condizioni. Anche il Recovery Fund sono dei soldi a fondo perduto o è un prestito? Perché sicuramente, anche se adesso tutte le regole europee sono sospese e possiamo cercare di negoziare, per quanto i paesi del Nord Europa non siano assolutamente a favore di soldi a fondo perduto. Abbiamo visto anche l'altro giorno la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, sostanzialmente chiedendo spiegazioni alla Banca Centrale Europea per le sue azioni e i suoi stimoli monetari, che è un qualcosa che non si è mai visto prima. Quindi è chiaro che prima o poi qualcuno ci chiederà il conto e la domanda è quando dovremo iniziare a restituire questi soldi, a tornare all'interno dei parametri con un debito pubblico che sarà scoppiato e sarà andato oltre il 160% del PIL, chi ci sarà il governo in quel momento? Perché comunque farà la differenza, magari non nell'immediato, adesso credo che sia interesse di tutti aiutare l'Italia, però a un certo punto arriverà il momento in cui dovremo iniziare a rientrare all'interno dei parametri europei. E lì saranno dolori. Anche se c'è una buona notizia, dicevo Repubblica batte in esclusiva un documento di Gentiloni in cui da commissario europeo ribadisce che non ci saranno condizioni aggiuntive sull'Italia. Quindi una qualche risposta, anche se è vero il quadro tratteggiato da Silvia, è inconfortante. Sì, l'ho ricordato poco fa. Senta Professor Clementi, secondo lei ove mai riuscissimo, potessimo andare in vacanza, come andremo al mare o in montagna? Qualche tempo fa in un'intervista ho detto andremo al mare ma magari con la mascherina e mi hanno, me l'hanno detto di tutti i colori, vacci tu con la mascherina e adesso dico la verità, io ho prenotato la mia vacanza da tempo, non ho disdetto la prenotazione e la lascio fino all'ultimo. E va al mare? No, va in montagna. Con la mascherina? La mascherina resta, ci andremo in vacanza con la mascherina. Non sappiamo, con tutte le precauzioni che al momento saranno necessarie, per cui parliamo di agosto. Ma se quella tendenza continua potrebbe non servire? Se il virus diventa più buono. Io direi che le misure di protezione, ecco questo forse è un rischio che anche nella commissione scientifica qualcuno si pone, cioè che dire che le cose vadano bene troppo presto, riaprire troppo presto, è un po' un via libera che viene preso come un messaggio a ritornare alla vita precedente, agli aperitivi, alle... Almeno non vediamo i politici a fare i selfie in spiaggia con i fan. Niente selfie in spiaggia. Non pensate che siamo pronti a fare i party, non facevamo party, no ma lo vede? Questo è quel paternalismo virologico che non si può sentire, se ne liberi anche lei professore, non è che se voi ci dite se continua così bene come dico la mascherina non servirà, io domani faccio un party senza mascherina e bacio in bocca a 12 persone. Bacio in bocca solo lei per la buona notizia di oggi. Va bene, va bene. Scusa, il professore fa il suo dovere, il suo mestiere, io invece penso che si debba sempre in virtù, in nome di questa chiarezza, spiegare, ribadire alcuni concetti fondamentali, quello che è necessario fare in un dato momento per non esporsi e non esporre altri al virus. Rapidissimamente, voi andrete in vacanza? Lo chiedo a Severnini, Telese, Silvia, Borrelli. Rapidamente. Io spero di andare in vacanza in Val Seriana dove vado da tutta la vita che ha molto sofferto e in Gallura e in Sardegna, sono i due posti del cuore. Spero anche per loro che tanti vadano in vacanza. Secondo me il nostro motto dell'estate è spendiamo e aiutiamo. Questo è un modo che dobbiamo provarci e sperare di potere. Poi questa ce la portiamo e la terremo in tasca. Silvia, Borrelli e Telese? A me piacerebbe andare al mare, ma con una bambina piccola credo sarà difficile riuscire a mantenere le distanze di sicurezza e applicare tutti quei protocolli. Quindi vedremo, speriamo. Luca? Appena posso fuggo in Sardegna, ad Alghero, senza mascherina. Se va bene, altrimenti con la mascherina. Oh, meno male. Allora, e adesso invece sentiamo il punto di Paolo Pagliaro perché, lo accennavo prima, dopo il coronavirus la grande battaglia da affrontare sarà quella delle disparità, delle disuguaglianze sociali. Pochi secondi di pubblicità, poi il punto. La crisi del 1929 portò al New Deal negli Stati Uniti e al nazismo in Germania, perché i due paesi scelsero strade diverse. Di fronte allo shock violento del Covid-19 e all'incertezza sistemica che ne deriva, nulla è già scritto. Sta a noi decidere in che direzione incamminarci. Partono da questa premessa Fabrizio Barca e il Forum Disuguaglianze e Diversità per presentare il loro progetto per l'Italia post-coronavirus. Un pacchetto di proposte elencate e descritte in un documento diffuso ieri. La prima potremmo definirla basica perché riguarda la protezione sociale di quell'esercito di non garantiti che hanno perso il poco che avevano. Lavoratori autonomi, i più colpiti. E poi i 6-7 milioni di lavoratori, metà con contratti a termine o ha chiamata l'altra metà irregolari. Per loro è urgente il reddito d'emergenza. La ripresa delle attività, secondo il Forum, deve essere programmata da imprese, lavoratori e governi locali insieme per non scaricare sui singoli imprenditori la responsabilità della riapertura. E va finanziata facendo in modo che sia indirizzata a obiettivi di sviluppo sostenibile. Occorre evitare che l'insegnamento a distanza si traduca nell'abbandono scolastico da parte dei meno abbienti. Una riduzione degli orari di lavoro potrà consentire il riassorbimento di una parte della mano d'opera delle imprese costrette a chiudere. In altri casi, per garantire la continuità aziendale, dovrebbero essere incentivate le cooperative dei dipendenti. Andrebbe valorizzato il ruolo di cassa depositi e prestiti come banca di sviluppo e andrebbe garantita la gestione pubblica delle risorse digitali, a cominciare dai dati. L'obiettivo è che la distanza fisica non diventi sempre più distanza sociale, che sarebbe un esito disastroso per la tenuta della democrazia. Siamo in chiusura, ringrazio Silvia Sciorilli Borelli, grazie Beppe Severnini, grazie Luca Telese, grazie professor Clementi, buon lavoro a tutti, grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia e sua piazza pulita, molti ospiti interessanti, restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani, otto e mezzo, grazie.